Brutta disavventura questa mattina sabato 8 aprile a Curnier in via Torino angolo corso Dante quando una famiglia curniatese composta da nonno, nonna e nipotino piccolo è stata investita sulle strisce pedonali. Alla guida dell'auto una FIA 500 un uomo che si è subito fermato a soccorri malcapitati e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, la croce bianca del Canavese, la polizia municipale e i carabinieri e subito dopo la mamma del bambino. Tutti gli infortunati sono stati portati a ospedale di vera per accertamenti. Il traffico della zona è stato deviato e fatto del fluido nelle vie laterali per poi essere aperto a fine soccorsi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.